Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Con che cosa era più chiaro stavolta? Dove? Ha bevuto di nuovo? Non c'è male. E quando torna mi sembra di essere una scena di un film horror. E... e tua madre? E non me ne parlare, poverina. Sei sempre lì a piangere. Vuoi che... Oggi veniamo da te a farti un po' di compagnia? No, dai. In qualche modo me la gaverò. Dai, raga. Andiamo in classe, è tardi. Sì, dai. L'intervallo sarà già finito da un pezzo. L'intervallo sarà già finito da un pezzo. Ma quanto cavolo di tempo ci metti per aprire questa porta? Quando torno devi immediatamente aprire la porta, hai capito? Stronza! Lascia passare, non te la mia! Vabbè, non diavolo! Andate al diavolo! Allora, bambini, per non sbagliarvi, ricordate bene la regola. Buongiorno! Ciao! Sono il professor! Sono il professor! Sì, io faccio lezionare un po' ora. Ho solo bisogno di parlare con Luca. Può uscire un attimo con me? Luca, per piacere, vai un attimo con il maestro. Forza! Ciao ragazzi, ci vediamo dopo, eh? No, vabbè. Senti, ho sentito quello che dicevate sotto la garascia. Oh. Senti, Luca, il maestro sta qua per te. Qualsiasi cosa di cui vuoi parlare, il maestro ti ascolterà. Senti, Luca, il maestro ti ascolterà. Ragazzi, però non è giusto che devi stare sempre lì con il maestro. E anche a me sta bene questa situazione, perché anche io ho avuto dei problemi, ma nessun maestro si è preoccupato di me così tanto. E che cosa vogliamo fare? Io un'idea ce l'avrei. Dici? Dico a mio padre che il maestro mi ha picchiato, così lo faccio denunciare. Ancora a perdere tempo sul divano con sto gioco, stai? Vieni subito, va bene. Tu e tua madre siete la mia rovina, hai capito? Tu e tua madre siete la mia rovina. Basta! Vattene subiettamente in camera che non uscire. E smettila di bussare. Mi stai scocciando. Basta! 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 E tu cosa vuoi? Il tuo figlio dov'è? Dov'è il tuo figlio? Questo è l'ultimo Voglio vedere il tuo figlio Voglio vedere il tuo figlio È quello che voglio Non ti permetto più di venire qua Perché chiamerò la polizia la prossima volta Vattene! Ma lo indiano? L'hai chiamato tu il ghiacco? L'hai chiamato tu il ghiacco? Pronto polizia? Ma è proprio lui? Sì, ma non sai quello che è successo? È stato licenziato Mamma mia! Ma avete saputo cosa è successo? Cosa? Il maestro? Il maestro? Il maestro Luigi? Se... Se ne è andato? Ma che stai dicendo? Perché? L'hanno denunciato L'hanno denunciato Ma mi testa in galera Non lo so Forse l'hanno licenziato Ma che stai dicendo? No! No! Ma che stai dicendo? E' un po' della vostra... nella nostra ospitalità. Noi siamo figli di San Francesco. Ogni persona è il nostro fratello. Vieni, seguimi. Ci vediamo alle otto cina. Grazie. 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 Luca, non vieni. Aspettami al bar. Va bene. Maestro. Non mi riconosci? Sono Luca. Dove sei stato tutti questi anni? Io non sono più il tuo maestro. Io sono una persona qualunque. Per il mondo intero sarai una persona qualunque. Ma per me sei il mondo intero. Non vieni a vivere con me tu. La mia casa è questa Luca. Una strada. Allora, questa sarà anche casa mia. Ma per me sei... A l'ora. Il mondo intero. Non mi riconosci? Ma per la mia casa. Non mi riconosci? Ma per me sei. Ma per me sei. Ma per me sei. Ma per me sei... Ma per me sei. Grazie a tutti.